Ciao Mosca, si è bello. Ecco voi i muscatelli. Ciao Mosca, no, no, no. Ecco, dell'orenza, signori, l'orenza che prima ha fatto le magie giocando a basket. E già mette dentro un bel canestro. Passaggio per Moscatelli. Moscatelli, toglietevi bambini, Mosca non segna. Vediamo perdi. No, perché tu non riprendi quando uno tira, non riprendi il canestro. Ecco a voi dell'orenza, attenzione, che mette dentro un bel canestro. Poi c'è Moscatelli che recupera il ballone. E chi? Butta il ballone. No, dai, non scappa. Passaggio. No, la Mosca no. No, la Mosca no. No, la Mosca con la scarpa. No, la Mosca. Aveva un intruso con la scarpa. Il tiro. Ce l'hai di merda. Beh, non è molto. Che volta volevo fare la ginnastica, quando ho bisogno di due ore e tiro poi la scarpa. Diciamo che dovevo essere molto buono da tiri a tre. Cosa sto facendo? Io non vedo niente, niente. Sta concentrare. E lo so. Dai, Mosca, di qualcosa. Ma no. Pantozzi, no. Venga, venga. Oh, che parcia. Ho giù. Vai, Mosca. Vai, Mosca. No. Oh, Mosca. Niente. Mosca, trovo. Mosca. Non è mezzino. Dentro, signori, dentro. Ma non così forte, Mosca. non è che sta tirando la cazzo tira bene no 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 le sbaglio tira la cazzo tira bene non sto neanche concentrato guarda Mosca vediamo la tecnica di tiro oooh vedi che faccio una tripla perchè? oh dai Mosca la mette! con l'aiuto del tabelluone dei tuoi ferri aaaaaaah! porco! dai vogliamo una tripla cosa ha messo? cosa ha messo signori? se ne puoi un altro di silenzio perchè non posso? se ne puoi un altro di silenzio se ne puoi un altro di silenzio se ne puoi un altro di silenzio